sei pronto ad affrontare insomma questo grande tour di impianti sportivi è certo partendo ci sono un sacco di persone e tu al momento lei è la nostra special guest prima era metà donna e metà pesce quest'anno in versione tutto sport lo so ci ha appena detto che le origi non si dimenticano mai mia cara per tenope secondo me però c'è uno sport che preferisci ne puoi dire uno qualsiasi non sarò di parte io ma allora anche tu non dimentichi le tue origini io sono a napoli per promuovere il nostro paese il nostro bisogno a napoli per promuovere la nostra regione la nostra città lo sai che questa è partenope ragazzi qua siamo preparati siamo convinti che facciamo le cose così a caso a napoli dimostreremo come in poco più di 70 giorni riusciremo a fare i giochi più belli in assoluto la trentesima edizione 1 2 3 partenope